da quanto tempo lo usa da tanto c'è una bimba che ha nove anni che l'adopravo già prima assai perché l'adoprava la mia mamma e perché da perché guardi un po se mi spiego e che macchia che ti fai di solito tu sentiamo l'amante come viene la maglietta dopo che l'hai lavata con dash bianca se facessi la proposta di dargliene due e mi prendo questo suo che cosa non si scambia perché più bianco non si può povera paola che lavoraccio e questo sporco non viene via ma è vero guarda che pulito tutto brilla ti ci vedi anche sul pavimento dappertutto ti ci vedi dove passa maestro lindo che pulito ti ci vedi maestro lindo due san viter san viter san pellegrino viter san viter c'è più facile è vero è più facile prego un'oliva è un san viter e ti senti in paradiso un san pellegrino viter un san viter c'è più facile e adesso pubblicità allegria michele ma dove vai sempre più lento sempre più lento sempre più morbido concludendo 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 morbido smetto per elac la dolcizza cambia il mondo e regala le gommine delle regioni d'italia allegria ma cosa fa con quell'arnese ostacola il traffico devo dipingere una parete grande e ci vuole un pennello grande non ci vuole un pennello grande ma un grande pennello cinghiale cinghiale la grande marca laggiù in fondo alla valle felice c'è un minuscolo mulino bianco dove vive un colomugnaio innamorato di un amore grande molto più grande di lui bella clementina arrivo con la tua passione uno squisito tegolino con crema al cacao allora mi noterai e per ringraziarmi mi darai anche un bacio è cotto è cotto ancora un ricamo di crema al cacao eccezionale ed ecco pronto il tegolino clementina ho costruito anche un heli scooter per volare da te bella clementina ecco il tuo tegolino un tegolino appena sfornato che buono che sapore l'ho fatto io conoscessi il donatore ma sono io ma quante zanzare oggi accidenti non mi ha visto ma cospita se le piacciono i miei tegolini allora via di corsa a preparargliene un altro così mi vedrà certo che mi vedrà tegolino del mulino bianco una golosa merenda con tanta crema al cacao da Cirano a Marlow da Otello al feroce Saladino e oggi sono Nino Castelnuovo certo un po' di moto è importante per me come per tutti e a tavola c'è olio cuore che mi aiuta a stare in forma olio cuore dal cuore del mais è un olio di semi di mais dietetico olio cuore saporito leggero gustoso ti dà tutto il sapore del mais olio cuore mangiare bene per sentirsi in forma io ce l'ho profumato l'alito ce l'ho profumato con mental perché mental profuma l'alito e che avevi capito ciao amici sapete cosa beviamo qui a Chattanooga Tennessee quando il sole ti spacca il quattro non si sbaglia una broca di acqua ghiacciata e tutto il gusto di Lipton Ice Tea hey gang Lipton Ice Tea great idea Dan Lipton Ice Tea bear no man ale chi vuole risparmiare usa trova volantini.it grazie a tutti